I presupposti del piano generale di distribuzione dei vaccini sono profondamente sbagliati. Tutto quello che è avvenuto dopo è rapportato a quel piano. E così la conseguenza di queste ore sarebbe la seguente, che cioè nella distribuzione dei vaccini per questa e la prossima settimana noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Campania 135.000 vaccini, tenendo conto di una diminuzione del 10% conseguente al mancato arrivo da parte di Pfizer. Campania 135.000 vaccini. Emilia-Romagna 183.000 vaccini, 50.000 più della Campania. Lazio 179.000 vaccini, 45.000 più della Campania. L'Emilia-Romagna ha un milione e 300.000 abitanti in meno della Campania. In Lazio la stessa popolazione. Lombardia 304.000 vaccini rispetto ai nostri 135.000. Cioè 265.000 vaccini più di noi. Piemonte 170.000 vaccini rispetto ai nostri 130.000. Il Piemonte ha un milione e mezzo di abitanti in meno della Campania. Veneto 164.000 vaccini, cioè 30.000 più della Campania. Allora, per cortesia, nessuno mi dica che stiamo rispettando criteri oggettivi. Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini. Lo abbiamo denunciato. Abbiamo chiesto un riequilibrio che ancora non è avvenuto. Ancora in queste ore stiamo discutendo con il commissario Arcuri su come garantire alla Regione Campania la copertura delle seconde vaccinazioni, dei richiami. qualcuno ha detto, sbagliando e in maniera provocatoria, che la Regione Campania non ha accumulato le scorte. Questa è un'idiozia. Perché se noi abbiamo una sottodotazione di vaccini, che scorte devo accumulare se non ho neanche l'indispensabile per coprire la domanda essenziale? Allora è arrivato il tempo di fare un'operazione verità e di farla finita con le manfrine. Altrimenti, come abbiamo comunicato, avremo modo di tutelarci in tutte le sedi e arriveremo a chiedere la invalidazione del piano di distribuzione approvato 20 giorni fa. Questo è tutto. Ricorsi al TAR, al di là di qualche stupidaggine che è stata raccontata sulla sentenza del TAR. Il 25 dovrebbero riaprire le scuole primarie come avevamo previsto. Ovviamente lasciamo sempre un margine di discrezione all'Italia e amministrazioni comunali e subordiniamo sempre tutto alle condizioni sanitarie vere. Poi, questo dice la sentenza del TAR, dal primo febbraio cominciamo le attività nelle secondarie, inferiori e superiori. Bene, era esattamente quello che volevamo ottenere. Sulla base di quello che abbiamo visto si conferma quello che ho ripetuto parecchie volte, che la riforma più urgente nel nostro Paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi. Io credo però che noi facciamo un errore di fondo quando assistiamo alle vicende politiche nazionali. L'errore di fondo è immaginare di confrontare l'Italia con gli altri Paesi avanzati. La Germania, la Francia, il Giappone, la Sud Corea. È chiaro che se guardiamo le vicende italiane confrontandole con quelle di altri Paesi cadiamo in depressione. Il nostro termine di paragone non sono le grandi democrazie ma sono le attività dei circhi equestri. Il nostro termine di paragone è il Cirque du Soleil. Se cominciamo a guardare le nostre vicende in questi termini vedrete che ci rassereniamo. Abbiamo visto al Senato saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che erano andati a farsi un giro per Roma e sono tornati a votare dopo che erano scaduti i termini. La Presidente del Senato Casellati ha dichiarato chiuse le votazioni, poi le ha dichiarate socchiuse, poi le ha dichiarate riaperte. È uno spettacolo meraviglioso. Come finirà questa vicenda? Comunque vada la crisi finirà male. Finirà male sia nel caso che andiamo ad elezioni anticipate sia nel caso che si trascini questo lungo calvario. Perché dal punto di vista dell'efficienza operativa noi avremo un danno enorme. Grazie. Grazie.